Eccoci, allora il numero della tele, tele, andiamo bene, andiamo. Della tele lettura 041-729-1123, eccolo lì, diamoci il tasto verde. Benvenuto nel servizio di autolettura del gruppo Veritas, ti ricordiamo che per comunicare la lettura del tuo contatore dell'acqua devi avere il codice contratto di 10 cifre che inizia con 300 riportato in tutte le tue bollette. Per continuare premi 1 oppure pronuncia la parola acqua. Digita il codice contratto di 10 cifre che inizia con 300 riportato nella tua bolletta. Il codice contratto inserito è 3000215187. Premi 1 per confermare, premi 2 per reinserire il codice. Inserisci la tua lettura. La lettura inserita è 729. Premi 1 per confermare, premi 2 per reinserire la tua lettura. La lettura inserita non è compatibile con i consumi precedenti. Inserisci la tua lettura. Allora, metto giù. Abbiamo detto 729 non è compatibile, ci sarà un 0 davanti. Riproviamo. Il numero è sempre questo. Allora, torniamo di qua. E questo è il numero. Tasto verde. Viva voce. E tastiera. Benvenuto nel servizio di autolettura del gruppo Veritas. Ti ricordiamo che per comunicare la lettura del tuo contatore dell'acqua devi avere il codice contratto di 10 cifre che inizia con 300 riportato in tutte le tue bollette. Per continuare premi 1 oppure pronuncia la parola acqua. Digita il codice contratto di 10 cifre che inizia con 300 riportato nella tua bolletta. Il codice contratto di 10 cifre che inizia con 300 riportato è 3 0 0 0 2 1 5 1 8 7. Premi 1 per confermare. Premi 2 per reinserire il codice. Premi 2 per reinserire la tua lettura. Inserisci la tua lettura. La lettura inserita è 0 7 2 9. Premi 1 per confermare. Premi 2 per reinserire la tua lettura. La lettura inserita non è compatibile con i consumi precedenti. Inserisci la tua lettura. Se ci metto 0 non va bene, se non ce lo metto non va bene. Allora ritorniamo per l'ultima volta. Dopodiché chiudo e vado a nanna perché mi sono rotto i maroni. Benvenuto nel servizio di autolettura del gruppo Veritas. Ti ricordiamo che per comunicare la lettura del tuo contatore dell'acqua devi avere il codice contratto di 10 cifre che inizia con 300 riportato in tutte le tue bollette. Per continuare premi 1 oppure pronuncia la parola acqua. Digita il codice contratto di 10 cifre che inizia con 300 riportato nella tua bolletta. Il codice contratto di 10 cifre che inizia con 300 riportato nella tua bolletta. Il codice contratto inserito è 300 2 1 5 1 8 7. Premi 1 per confermare. Premi 2 per reinserire il codice. Inserisci la tua lettura. La lettura inserita non è compatibile con i consumi precedenti. Inserisci la tua lettura. Ascolta, notte.